L'OVNI Mi dispiace. Ma guardi, lei ha talento, si fidi di me. Ha il talento necessario a raccontare una grande storia. Non puoi lasciare da sola tua madre in questo momento. È tutto finito, l'abora con tuo padre è finita. È morta, con la convinzione di aver fallito in tutto. L'ha fatta per quella. quella che era fuori dalla chiesa era lei a farlo stare male stava lavorando un libro era convinto che questo libro lo avrebbe risarcito la pregherei quindi di cercarlo fra tutti gli scritti che ha lasciato lei è l'unica persona che abbia la possibilità di farlo mi ha lasciato una cosa molto importante da fare una cosa che che posso fare solo io mi fa paura tuo padre parlava di te come se parlassi di un genio non sei contento di rivedermi? pensavo che non l'avrei più risentita mi ha detto che c'è qualcosa da leggere ma posso di poterlo fare? mi costerà una fatica enorme ma so anche che io e te ce la possiamo fare ti voleva bene perché mamma non mi ha detto? cosa l'ha chiesto mia moglie? bisogna che troviamo il resto ma vedi qui c'è tutto tutto quello che sarebbe al genio per creare quello che qui non c'è cioè? capolavoro grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.